Mi chiamo Luigi, sono dipendente presso la ditta Ecotec SRL di Rovato. Ci occupiamo di impianti fotovoltaici ormai dalla fine del 2007 con l'avvento del secondo conto energia del decreto ministeriale del febbraio 2007. Seguo la parte progettuale degli impianti fotovoltaici e qui trovate uno degli esempi di impianti fotovoltaici che sono stati montati in questi anni. Questo impianto fotovoltaico è un impianto di sola produzione è formato da 432 pannelli di tipo policristallino questi 432 pannelli erogano una potenza nominale di circa 100 kilowatt 99,36 kilowatt I pannelli fotovoltaici installati a terra mediante delle strutture in acciaio zincato che sono state montate mediante palificazione direttamente nel terreno per cui dei palli avvitati nel terreno. L'impianto fotovoltaico produce energia elettrica mediante il principio di conversione dei raggi solari, dei fotoni, in volte. L'impianto fotovoltaico produce energia elettrica in maniera continua che poi deve essere trasformata mediante l'inverter in corrente alternata ai fini dell'utilizzazione domestica e industriale nella rete elettrica. Per quanto concerne il discorso della produttività dell'impianto fotovoltaico per quanto riguarda le applicazioni a terra chiaramente c'è la possibilità di ottimizzare la resa dell'impianto fotovoltaico in funzione dell'irraggiamento. Questi pannelli sono montati con un'inclinazione di 30 gradi rispetto alla quota zero inclinazione che permette la massima resa annuale per quanto riguarda il discorso di produttività. Un impianto di questo tipo riesce a produrre all'incirca 125.000 kWh in un anno che significa una produttività di 1.250 kWh a kW di picco installato. Il pannello fotovoltaico che qua vedete è di tipo cristallino utilizza silicio che viene opportunamente drogato nella fase di produzione affinché abbia la capacità di captare i fotoni e trasformarli in energia elettrica. Il pannello fotovoltaico produce energia elettrica in maniera continua. Questa energia elettrica viene trasportata mediante un sistema di cablaggio all'interno della cabina elettrica. In questa cabina elettrica si trovano tutti i componenti di protezione dei pannelli stessi e di tutta la componentistica e dopodiché entra all'interno dell'inverter del macchinario che è il cosiddetto inverter. Questo inverter ha la capacità di trasformare l'energia elettrica da continua in alternata. Questa energia elettrica in alternata a 380 volt può essere immessa all'interno della rete della rete di distribuzione per essere poi utilizzata a livello sia domestico che industriale. L'impianto fotovoltaico così come è stato pensato il sistema di incentivi statali ha una redditività dal punto di vista economico in funzione dell'efficienza e della produttività annuale che l'impianto fotovoltaico chiaramente ha. Per questo motivo è fondamentale pensare in fase di progettazione a tutto un sistema di telecontrollo che vada a verificare l'efficienza e il funzionamento di ogni singola componente dell'impianto fotovoltaico che sia il pannello fotovoltaico che siano tutti i sistemi di protezione che sia l'inverter stesso. Per questa applicazione abbiamo pensato un telecontrollo mediante wifi collegato alla rete DSL col quale direttamente dall'ufficio riusciamo a verificare l'efficienza e la produttività di ogni singola stringa. Una fila di pannelli costituisce una stringa una serie di stringa che va a costituire poi l'impianto fotovoltaico. Riusciamo a verificare i dati di tensione corrente per ogni singola stringa. In questo modo verifichiamo l'efficienza riusciamo ad ottenere i gradi di efficienza di ogni singolo pannello. Questo impianto ha accesso agli incentivi previsti dal secondo conto energia che significa che tutta l'energia elettrica che viene prodotta viene incentivata mediante una tariffa incentivante che è stata determinata in funzione della tipologia dell'applicazione scelta in questo caso un impianto non integrato tutta l'energia elettrica che viene prodotta viene remunerata. Oltre a questo beneficio c'è il beneficio della vendita dell'energia elettrica per la quale l'autorità per l'energia ogni anno stabilisce i prezzi di vendita minimi garantiti ai produttori di un'energia elettrica come è per questa applicazione. L'incentivo viene erogato direttamente sul conto corrente dell'intestatario dell'impianto fotovoltaico dal GSE-SPA che è il gestore dei servizi energetici che è responsabile chiaramente dell'erogazione dei incentivi stessi. Il ritiro dedicato con la convenzione con la quale il GSE si impegna a ritirare l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico produce il secondo beneficio che è la vendita dell'energia elettrica prodotta alla rete. Questa energia elettrica venduta alla rete poi verrà distribuita all'interno appunto della rete elettrica nazionale e verrà poi utilizzata per gli utilizzi domestici o industriali comunque applicati alla rete elettrica. C'è stata un'evoluzione normativa dal 2010 questo impianto fotovoltaico è entrato in esercizio al 25 marzo 2010 con il secondo conto energia ad oggi abbiamo già avuto il terzo e il quarto conto energia che si è esaurito a agosto di quest'anno e siamo attualmente in regime di quinto conto energia il quinto conto energia prevede un'impostazione un po' diversa rispetto ai primi ai primi quattro conto energia è stato pensato per premiare di più impianti fotovoltaici che vengono costruiti a servizio dell'autoconsumo viene prevista appunto una tariffa onicomprensiva su tutta l'energia elettrica che viene ceduta in rete onicomprensiva vuol dire sia degli oneri della vendita al vecchio litio dedicato sia la tariffa incentivante come era prevista dal secondo terzo e quarto conto energia in più su tutta l'energia elettrica che viene autoconsumata è previsto un premio un ulteriore premio chiamato appunto premi sull'autoconsumo per il quale l'utente oltre che avere chiaramente il suo risparmio in bolletta vedersi abbassati i costi fissi per quanto riguarda l'acquisto di energia elettrica si trova un premio che viene erogato nello stesso modo in cui veniva erogato il secondo conto energia per cui tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente dell'intestatario questa evoluzione sta portando a un po' un cambiamento dello scenario del fotovoltaico chiaramente in Italia da questo punto di vista diciamo per quanto riguarda impianti fotovoltaici asserviti ad aziende che siano piccoli imprenditori o grandi industrie l'incentivo così come è stato pensato e costruito risulta ancora interessante dal punto di vista economico per quanto riguarda quei settori dell'autoconsumo per cui il concetto secondo me della norma e può essere anche giusto e corretto così è quello di cercare di localizzare impianti fotovoltaici e di produzione di energia elettrica in quelle zone dove c'è elevato consumo di energia elettrica dall'altro punto di vista al momento non si vedono grandi sviluppi per quanto riguarda invece il discorso degli impianti a terra se non per alcune particolari applicazioni non nel nord Italia ma sicuramente nel sud Italia dove siamo vicini a raggiungere il famoso grid parity ovvero l'impianto fotovoltaico costruito è entrato in esercizio senza l'ausilio degli incentivi statali il sud Italia perché chiaramente è un livello di produttività dell'impianto fotovoltaico molto più elevato rispetto alle zone settentrionali del paese per cui anche qui il tutto contro energia aiuta lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in quelle applicazioni dove c'è bisogno di abbassare i costi energetici i costi fissi per l'acquisto di energia elettrica ci stiamo arrivando non sicuramente non in Lombardia bisogna spostarsi in quelle regioni dove il numero di ore di sole all'anno è sicuramente molto più elevato rispetto rispetto alla Lombardia e sto pensando alla Puglia la Calabria sicuramente anche la Sicilia dove il livello di produttività raggiunge anche un 20% è del 20% superiore rispetto a una produttività nel nord Italia oltretutto il quinto contro energia non prevede incentivi per impianti fotovoltaici realizzati a terra per cui su terreni agricoli per cui da questo punto di vista anche il quinto contro energia ha un po' tagliato quel discorso dell'utilizzo di terreni agricoli ai fini della produzione di energia elettrica ci stiamo arrivando probabilmente tra breve riusciremo a spostarci dal settentrione dal sud Italia verso il nord anche per questo discorso di grid parity l'interburocratico prevede che il procedimento autorizzativo venga gestito direttamente dalla provincia la provincia che fa da tramite tra il comune ARPA ASL consorzi irrigui eventuali rete gas e rete idriche che ci sono questo procedimento unico ha semplificato un po' l'interfacciamento per chi si trova a realizzare impianti fotovoltaici stiamo parlando di impianti fotovoltaici come questi a terra per quanto riguarda invece applicazioni su coperture ovvero quegli spazi che sono già occupati per cui stiamo parlando di impianti fotovoltaici a tetto l'iterburocratico è abbastanza semplice dal punto di vista dell'utilizzazione diciamo amministrativa comunale per quanto riguarda invece il discorso del distributore di rete l'autorità per l'energia ha stabilito dei tempi massimi di intervento per quanto riguarda tutti i distributori di rete presenti sul territorio nazionale se facciamo l'esempio di questo impianto fotovoltaico per cui un impianto fotovoltaico di 99,36 kW allacciato ad una tensione di 380 volt ovvero bassa tensione e una distribuzione che è responsabile di zona per la distribuzione di energia elettrica dal momento del ricevimento della richiesta di preventivo a tempo 20 giorni lavorativi per fare il sopralluogo e produrre il preventivo per le sue competenze per quanto riguarda l'allaccio in questo preventivo appunto vengono dettagliati tutti i lavori che il distributore di rete ha in carico di fare e chiaramente anche tutti i costi a cui il cliente finale andrà incontro costi che anche in questo caso vengono stabiliti dall'autorità per l'energia per cui è un discorso di costo forfettario che è funzione della potenza dell'impianto fotovoltaico e della distanza dell'impianto fotovoltaico dal primo punto di connessione per questo tipo di applicazione e nella distribuzione c'è richiesto 90 giorni lavorativi per l'allacciamento 90 giorni lavorativi che significano 5 mesi di tempo questi tempi si possono prolungare in caso di impianti di una potenza superiore soprattutto nel caso in cui vadano a lavorare su delle linee di media tensione che prevedono delle autorizzazioni da parte di altri enti che possono prolungare i tempi di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca